Sono 146 i comuni del territorio metropolitano, protagonisti della candidatura trasfrontaliera di un piano territoriale integrato all'interno della programmazione Interreg Alcotra 2014-2020. Il progetto si chiama Graies Lab, che tradotto significa Generazioni Rurali Attive, Innovanti e Solidali. I contenuti della candidatura, che conta su un vasto partenariato pubblico e privato piemontese, valdostano e francese, sono stati illustrati ieri ad Aglie durante un incontro a cui sono intervenuti numerosi sindaci, insieme a rappresentanti del tessuto economico e sociale del Canavese, delle Porediese e delle Valli di Lanzo. I rappresentanti degli enti che lavorano al progetto ormai dalla fine del 2015, città metropolitana di Torino, Camera di Commercio, Coldiretti Provinciali di Torino, Gal Canavese, Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, hanno tutti voluto sottolineare il valore di questa scommessa per un territorio che fino ad oggi non ha potuto usufruire a sufficienza dei finanziamenti europei trasfrontalieri. Ci sono territori in gran parte montani, poco abitati, in cui dal nostro punto di vista avere un negozio, un'attività commerciale, un'attività produttiva diventa un presidio di vita, un presidio di legalità e di attività e quindi è importante che noi cerchiamo di fare tutto con questi fondi per creare nuove opportunità per gli abitanti di questi territori. Abbiamo provato a immaginare un progetto che desse respiro a questo territorio che è un po' dimenticato dalle grosse progettualità, probabilmente li siamo penalizzati perché non abbiamo una strada che è in Francia, siamo un territorio un po' marginale, per cui proviamo a buttarci in questa scommessa. Quindi c'è una strategia importante che punta tantissimo sui giovani, sull'occupazione, sui nuovi servizi alla popolazione, quindi sono temi che abbiamo ben sviluppato e che credo che porteranno dei risultati importanti. Se non fosse stato per il lavoro di squadra che si è instaurato sul territorio, non solo attraverso i GAL, ma anche tramite Camere di Commercio, ma soprattutto Torino e Città Metropolitana, che ha fatto da cappello e da soggetto coordinatore tutta questa operazione, certo non saremmo potuti arrivare a questo livello. E questo credo sia davvero il ruolo importante di Città Metropolitana, il ruolo importante di un settore come quello delle politiche europee, su cui prima provincia, oggi Città Metropolitana ha investito molto. La Città Metropolitana ha ereditato quello che era già una progettazione europea dalla provincia e assolutamente intende portarla avanti. Sicuramente è quello di fare coesione tra i territori e quindi tra gli addetti ai lavori, cioè quelli che lavorano sul posto come i nostri sindaci che sono sul territorio e quindi fare rete per portare un progetto comune. La candidatura del piano Grae Slab sarà formalizzata entro la scadenza del 16 marzo. Si conta di ottenere entro l'estate le risposte sull'accoglimento o meno del progetto trasfrontaliero che dovrà poi avere uno sviluppo triennale.